Invece ancora soffre per Mauro Corona? Sì, soffro, ancora soffro. Ah, non se ne fa una ragione. No, assolutamente, non me ne farò mai. Cioè, spero sempre di poterlo riavere con me. Ma vi sentite? Sì, sì, ci sentiamo, ci siamo sempre sentiti. Cioè, questo legame non si è rotto? No, assolutamente no. Ci sentiamo per telefono, ci mandiamo messaggi. Tipo? Beh, ci comunichiamo come stiamo, cosa facciamo, non so, lui si è rotto una spalla. C'era un affetto, diciamo. Beh, certo, c'era un affetto anche perché erano ormai, credo, tre anni che stava con me in un rapporto complicato, ma che io sapevo essere complicato. Aldo Grasso ha scritto è l'unico segmento della trasmissione che funziona parlando della sua intervista a Mauro Corona. La berlinguera è una rigidona, ha difficoltà a sciogliersi, è sempre visibilmente impacciata. Mauro Corona era lo sparing partner ideale. Quindi le vorrei chiedere se è una questione, quindi, televisiva o proprio un po' di principio, o tutte e due? In che senso di principio? Perché lei, quando ha fatto una dura polemica, dicendo decido io, per me, se devo offendermi o meno? Beh, intanto televisiva, perché io comunque avevo costruito con Mauro Corona quella parte importante della mia trasmissione che veniva anche molto apprezzata dal pubblico. e poi mi ha ferito molto il fatto che non sia stata presa in nessuna considerazione la mia opinione. La mia opinione era quella, sì, certo, di dare un segnale del fatto che Mauro Corona aveva fatto una cosa grave dandovi della, come tutti sanno, della gallina. Peraltro io ho subito ribattuto, naturalmente. E lui si è anche scusato, no? Lui si è scusato, però quella è una decisione che è stata presa contro la mia volontà. E a settembre pensa che lo ritroverà nel suo studio? Io vorrei, ma... Lo dice proprio con un occhio. Non mi sento di poter dire niente, perché a questo punto... Lei ha detto che questa vicenda ha accentuato la sensazione di solitudine che ho in Rai. Si sente in qualche modo isolata? Sente questa sensazione? Sì, in questo ultimo anno mi sono sentita molto isolata, devo dire. Ho avuto come la sensazione di lavorare da sola, sempre da sola, con il mio gruppo. e di non avere... Come se questa trasmissione, carta bianca, sì, c'è, ma è in un certo senso... Sopportata? Sopportata, ecco. Non apprezzata. Mi sono mancati dei punti di riferimento. Aziendali? Aziendali, sì. Tutto sommato, nel bene e nel male, dentro la Rai, in qualche modo, si è intravuto.